Terza posizione, poi per Piro ma arriva Zanetti, prova di nuovo la Piratella come ieri questa volta non va bene, allunga Del Bianco, ne approfitta Michele Piro che trova spazio all'interno nel discesore verso le acque minerali, poi l'attacco di Piro che va al comando, va al comando, scavalca Del Bianco e in prima posizione, così facendo sarebbe teorico campione italiano ma in variante bassa, arriva lungo Zanetti, dopo un tentativo d'attacco furioso, nei confronti di Del Bianco, c'entra Michele Piro, i due sono a terra, Zanetti campione italiano. L'incidente sta facendo discutere l'intero mondo del motorsport, tu che idea ti sei fatto? Scrivilo qua sotto nei commenti, noi ne parleremo in un post gara con i nostri ospiti, iscriviti al canale se non vuoi perdere i prossimi appuntamenti, ciao! Grazie per la visione!